bentornati in live bomber con questo tutorial vi spiegheremo come aggiungere nuovi giocatori alla lista di squadra direttamente dal menu mettete il vostro iphone in posizione verticale per accedere al menu e spingendo in basso su giocatori andate in alto a destra spingendo più scrivendo il nome sarà possibile inserire un nuovo giocatore o recuperarlo dal database senza dover aggiungerlo nuovamente mettete il numero di maglia e inseritene un altro sarà possibile anche identificare i portieri andando su impostazioni e selezionando il portiere che compierà le parate per il resto della partita siete pronti per riprendere la vostra gara